Buongiorno a tutti, siamo Alessio Seganti e Emiliano Meccati. Siamo qui per presentarvi il nostro secondo romanzo, Karma avverso. Il romanzo si occupa di fantascienza sociale con un taglio decisamente cyberpunk. L'umanità occupa un sistema solare allievo su molteplici colonie o abitanti. Ci sono dei biosynth, cioè degli esseri che non sono umani, anche se hanno l'aspetto di esseri umani, ma sono stati creati artificialmente, cioè sono senzienti ma creati artificialmente. La protagonista è proprio una di loro, una biosynth, che deve combattere costantemente contro la discriminazione da cui è marcata la sua specie. Lo fa esclusivamente basandosi sulla sua forza di volontà che caratterizza tutto il suo percorso. Il romanzo si intitola Karma avverso. Il concetto di karma permia l'intero romanzo, sia per quel che riguarda il destino della protagonista, sia per uno scuro passato che avvolge l'intera vicenda. L'angente Karma avverso per il suo ritmo mozzafiato, per l'evoluzione profonda del personaggio principale, per la suspense presente in ogni capitolo, per i fit misteri che vengono via via svelati, fino a un finale imprevedibile. A che legge? Ti aspettiamo.